Preventivi triplicati rispetto ai consuntivi chiusi la scorsa primavera per proprietari e affittuari un vero e proprio salasso, una situazione che rischia di diventare ingestibile. L'allarme è dell'Associazione Amministratore di Condominio che numeri alla mano parla di rate con importi di tre volte maggiori rispetto a quelle del 2021. I preventivi per il prossimo inverno sono triplicati rispetto ai consuntivi dell'anno scorso, quindi con la necessità di fare più rate mensili perché altrimenti le famiglie non so come potranno sopportare questi maggiori costi. Una situazione esplosiva che puzza di gigantesca speculazione. Sono convintissimo che la maggior parte dell'aumento dei costi è proprio speculativa. Ne aveva parlato anche il ministro proprio subito dopo la guerra, Cincolani, però poi non si era ne più parlato, si era addirittura pensato a fare delle verifiche anche da parte della magistratura. La speculazione c'è ed è evidente. Anaci chiede che gli straordinari extraprofitti di Enel e di Eni controllati dallo Stato vengano utilizzati per abbattere i costi energetici oltre a provvedimenti d'urgenza che debbano essere assunti oggi e non dal governo che verrà. Sicuramente è un problema sociale, bisogna metterci mano, non è possibile nasconderci con la testa sotto la sabbia. In questo momento c'è il rischio che veramente quando la gente si accorge che non riesce ad arrivare alla fine del mese e non riesce a pagare spese condominali c'è da pensare anche a rivoluzione.